ciao ragazzi benvenuti a questo nuovo video come vi ho promesso qualche giorno fa oggi parleremo della mappa e delle bandierine andiamo a vedere come si apre la mappa facilissimo basta cliccare sul bottoncino la mappa si apre sempre visualizzando quello che avete intorno rispetto al villaggio che avete selezionato se per esempio cambiate villaggio la mappa si aggiorna automaticamente e il vostro villaggio sarà sempre centrato all'interno della visualizzazione che avete potete anche cercare nella mappa tramite le coordinate basta inserire qui una cosa veramente intelligente che si può fare sulla mappa è usare le bandierine per marcare dei campi per la propria alleanza questo viene usato tantissimo da chi gestisce alleanze per assegnare le zolle per la fonda del secondo villaggio mettiamo che questo sia un 15 grani viene marcato così si scrive 15 grani e si mette il nome martina così si sa che questo è stato assegnato a martina quando si fa mouse over verrà scritto esattamente la etichetta che ho assegnato a questa bandierina un'altra cosa importante è come visualizzo tutte le bandierine assegnate qui in basso a destra vedete c'è questa bellissima freccina che apre la visualirine ci sono anche altre informazioni che dipendono un po da quello che segnate per esempio potete marcare dei giocatori potete marcare delle alleanze e poi ci sono i marker dell'alleanza questi sono quelli che i vostri alleati hanno messo come bandierine dell'alleanza molto bene una volta che per esempio conquistate conquistate o fondate questo villaggio dovrete togliere la bandierina perché magari vi da fastidio allora vi basta andare dove la bandierina aprire il menu come vi ho fatto vedere prima e cliccare sulla x e la bandierina sparisce altre cose importanti informazioni importanti che si trovano sulla mappa sono a parte le varie abbandonate dove potete col mouse over potete vedere quanti campi sono vedete anche marcati con diversi colori complete alleanze o giocatori per esempio questi verdi sono l'alleanza della nostra confederata in blu gli alleati e se avete notato in giallo ci sono i vostri villaggi così avete sempre molto chiara la situazione in verde sono normalmente gli amici e in rosso normalmente sono i nemici nella mappa trovate anche le oasi quelle con il bordino rosso sono oasi occupate da qualcuno quelle invece con il bordino verde sono oasi libere e niente fondamentalmente è tutto qui la mappa è molto semplice la cosa più interessante della mappa sono sicuramente le bandierine usate con giudizio aiutano a perdere meno tempo per esempio una volta che avete fondato il vostro secondo villaggio potete semplicemente fare un giro negli slot vicino al secondo villaggio e già dare delle bandierine a quelli che saranno i prossimi villaggi che vorrete fondare dando per esempio un ordine cose del genere e niente questo per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo domani con l'intervista a scandola e manico mix ciao ragazzi